Un nubifragio si è abbattuto oggi sulla fascia ionica catanzarese, pioggia e grandina hanno provocato uno smottamento di terreno a Caminia di Staletti. La valanga di acqua e fango ha travolto danneggiandole una decine di auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catanzaro con cinque squadre, alcuni automobilisti rimasti bloccati nelle auto sono stati soccorsi e liberati. Danni alla struttura turistica Blanca Cruz. Sempre a Caminia l'acqua venuta giù con particolare violenza ha trascinato con sé detriti e sassi che hanno invaso la sede stradale all'opera per ripristinare la viabilità anche delle ruspe. Il nubifragio che ha interessato la costa ionica catanzarese da Catanzaro Lido a Soverato ha provocato pesanti allagamenti e danni anche a Copanello, Montepaone, Squillacilido e Montauro dove le strutture balneari in questi giorni sono affollate per la presenza di turisti e villeggianti. A Pietragrande l'acqua ha invaso uno sottopassaggio ferroviario.